Venerdì a Nyon in Svizzera si svolgerà il sorteggio per i play-off che decreteranno il passaggio alla fase finale del campionato Under 21 di calcio. Attesa per la nazionale azzurra di Gigi Di Viaggio che ha raggiunto questo contraguardo dopo i successi contro la Serbia 3-2 in rimonta e Cipro 2-0 ed è testa di serie. Da evitare a tutti i costi l'Olanda. Le gare si svolgeranno in doppia sfida l'8 ed il 14 ottobre.